eccoci ragazzi allora farlo è davvero facile facile quello che vi consiglio di acquistare due cornici così quelli trovate a poco anche dai cinesi in vetro secondo me è meglio il vetro se voi lo trovate solo in plastica o preferite la plastica usate pure la plastica ma il vetro è più stabile poi almeno due sabbie di colore diverso quindi quando abbiamo una bianca e una tipica sabbia della spiaggia in alternativa potete usare della sabbia normale o della polvere di glitter del colore che preferite del sapone meglio sapone per i piatti ma basta che sia trasparente se non è per i piatti va bene anche un sapone questo qua è un sapone igienizzante trasparente dei glitter facoltativi del silicone trasparente vi consiglio di acquistare questi qua piccoli che sono facili da usare e hanno anche un bel beccuccio delle mollette una siringa bene tanto si aprono le cornici si toglie il vetro in entrambe vi consiglio di pulire i vetri con l'alcol isopropilico oppure anche l'alcol per pavimenti va bene e come vi ho detto ci servirà uno spessore di 2 mm questo io l'ho già misurato sono 2 mm esatti ed è il retro della cornice bene li ho puliti bene in modo che siano ben sgrassati mi sono messo dei guanti per evitare che si formino sopra delle impronte e adesso andiamo a siliconare i due pezzi di vetro usando i 2 mm di spessore per il nostro lavoro finale come vedete questa parte in fondo la faccio uscire fuori questa parte no perché ci servirà poi un un'estremità aperta per inserire la sabbia adesso andiamo a siliconarlo e dobbiamo poi tenere 24 ore che asciughi ecco come vedete ho messo ho aggiunto più mollette sono già passate tre ore il silicone essendo poco si è asciugato in fretta ma io aspetto comunque 24 ore come vi ho detto adesso tolgo l'intramezzo da 2 mm aggiungo la parte di silicone in questo punto lascerò tanto spazio così per poter inserire la sabbia e l'acqua ok non andate oltre a 2 3 mm sotto il vetro perché poi si vedrà altrimenti sotto la cornice e non starà bene ok noi ci vediamo tra 24 ore vi faccio vedere cosa dobbiamo fare ciao ciao eccoci allora sono passate 24 ore ho aggiunto ancora un pochettino di silicone non vi preoccupate intanto rimarrà nascosto dalla cornice adesso vado ad aggiungere la sabbia aggiungo alcuni glitter in granuli che sono un po' più pesanti rispetto al classico glitter adesso facciamo una mistura di due parti di acqua e una parte di sapone liquido ok ci fermiamo a tanto così e aspettiamo mezz'ora con il quadro e adesso faccio un po' più pesanti in modo che tutta la sabbia si bagni e le bollicine d'aria vengano su tutte a dopo ok adesso che passate mezz'ora e l'aria è andata via dalla sabbia l'ho riempita ancora un po' e lascio almeno mezzo centimetro di schiuma faccio vedere queste bolle d'aria vanno lasciate mi raccomando vi consiglio di mettere del silicone anche sul bordo della cornice in modo che rimanga sia fermo al vetro sia maggiormente sigillato e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.